Dei Hospital Santa Lucia, struttura sanitaria autonoma. La struttura è in grado di erogare diverse tipologie di prestazioni medico-chirurgiche in regime ambulatoriale. Il centro è punto di riferimento per la specialità di oftalmologia, ma offre anche servizi di ostetricia di vario tipo, psicologia ed educazione prenatale. Omiopatia, psicoterapia e dietistica. Il Dei Hospital Santa Lucia è dotato di sistema di gestione qualità ISO 9001-2000.